Sbarcherà a Roma il progetto elaborato dagli studenti del liceo scientifico Enrico Fermi di Cosenza giunto al primo posto nell'ambito della settima edizione del concorso La tua idea di impresa promosso da Confindustria Cosenza. I ragazzi assistiti dagli insegnanti Zimmaro e Brand hanno pensato ad un dispositivo per il pagamento facile dei parcheggi. Migliora la ricerca del totem quindi si perde meno tempo perché è un sistema di cui viene dotata direttamente la vettura. Riduce anche il costo perché per il primo anno c'è una sorta di sconto per chi acquista questo dispositivo, uno sconto sul parcheggio. Inoltre si risparmia dal punto di vista del tempo perché si paga solo il tempo effettivo di parcheggio. Sul podio anche il liceo scientifico Galilei di Trebisacce è classificatosi al secondo posto mentre al terzo è giunto l'Istituto Industriale Monaco di Cosenza. Nel complesso l'iniziativa ha coinvolto nove gruppi di studenti rappresentanti di otto istituti di scuola secondaria superiore. La premiazione si è svolta nella sede di Confindustria Cosenza nel corso di una cerimonia alla quale hanno partecipato il direttore di Confindustria Rosario Branda, la presidente del gruppo Giovani Imprenditori Marella Burza, la responsabile dell'area Comunicazione ed Education Monica Perri e Maurizio Bozzo dell'area Fiscalità e Diritto di Impresa. La settima edizione stiamo vedendo come i lavori dei ragazzi, le idee imprenditoriali crescano sempre in qualità e anche dal punto di vista dei contenuti con uno sguardo sempre sull'innovazione tecnologica e sulle esigenze della società.